Cari amici di Made in Congress, ben ritrovati, siamo qui in diretta dagli studi della redazione di Made in Congress, un saluto da Gianluca Badessa, abbiamo qui un ospite veramente speciale, sono davvero onorato che lui sia qui, abbiamo con noi Julius Solaris, il founder e blogger del ormai celebre in tutto il mondo eventmanagerblog.com, io lascerei subito le presentazioni a Julius per presentarci e per condividere le sue esperienze con noi, ciao Julius! Ciao Gianluca, grazie mille per avermi invitato a parlare, è un piacere parlare con una realtà italiana come la vostra, difficile da trovare, quindi è un onore essere qui con voi. Bene, Julius, io la prima domanda che ti faccio, so appunto che sei un veterano ormai degli eventi, della gestione degli eventi, hai girato in tutto il mondo, hai vissuto in più parti del mondo e sicuramente potrai darci molte indicazioni a riguardo. La prima domanda che vorrei farti e se puoi darci qualche suggerimento utile per costruire e gestire una community per un evento e magari se puoi darci qualche indicazione, qualche servizio utile per realizzarla. Ma diciamo che la cosa da chiedersi è soprattutto iniziare a pensare a quello che viene chiamato life cycle in inglese dell'evento, quindi quanto dura un evento, indipendentemente dall'incontrarsi faccia a faccia, c'è sicuramente una fase precedente e una fase post-evento. Sicuramente la cosa importante da tenere presente, che hanno dimostrato molte statistiche, è che bisogna fare un po' attenzione a creare, a investire tanto in stand alone community, quindi community che sono dedicate solo e esclusivamente all'evento. Sicuramente ci sono esempi ben riusciti, però il mio consiglio è sempre di andarci con i piedi cauti e di sfruttare quello che c'è di disponibile. Grazie a realtà come LinkedIn, come Facebook, come Twitter abbiamo l'opportunità di creare community ad hoc tramite gli hashtag, i gruppi o le fan page per il nostro evento senza andare a scomodare i nostri partecipanti a creare nuovi profili o a creare nuove, insomma una nuova identità, ancora un'altra, che si vada ad aggiungere alle milioni che abbiamo già, insomma le migliaia che abbiamo già con i nostri vari profili. Quindi l'attenzione deve essere a usare quello che c'è e creare una community in una maniera veloce, il più possibile veloce, perché comunque gli studi dimostrano che una volta che ci siamo incontrati faccia a faccia non siamo tanto poi disposti a tornare a incontrarci in uno spazio online per discutere delle stesse cose di cui abbiamo parlato nell'evento specifico. Quindi usare questi meta social network, quindi esperienze più grandi come Twitter e LinkedIn che già usiamo quotidianamente può essere la scelta giusta per continuare la conversazione dopo l'evento e non lasciare queste community abbandonate a se stesse una volta che l'evento è finito. Tu consigli magari, entrando più nello specifico, di dotarsi o meno di servizi, di piattaforme integrate per realizzare le community? Penso a quei sistemi come potessero essere Patable o altri, non so se tu conosci... Sicuramente è molto senso creare queste standard on community nel momento in cui siamo davanti a eventi che hanno un audience particolarmente ricettivo rispetto alla tecnologia. nel momento in cui siamo davanti a eventi con un largo numero di partecipanti, quindi parlo di sopra i 300-400 partecipanti, delegates, quindi sicuramente in quei casi ha molto senso facilitare il networking in una standard on community. La scelta della tecnologia è molto importante perché come dicevo in precedenza è sempre utile scegliere quelle community, quei servizi che offrono un'integrazione con LinkedIn, con Twitter, con Facebook, ormai lo fanno quasi tutti, però sicuramente chi gioca meglio con questa integrazione è più avvantaggiato perché mi è semplice loggarmi con LinkedIn e vedere immediatamente se ho dei contatti che verranno a quell'evento e magari puoi trovare anche raccomandazioni di persone interessanti da incontrare, quell'evento è stesso e quell'evento stesso. Quindi indipendentemente dalle tecnologie singole ce ne sono svariate e sono ben disponibili insomma sia sul blog che penso in determinate risorse online, la nota metodologica è quella che mi interessa di più, cioè cercare sempre un servizio che si integri il più possibile con quello che usiamo quotidianamente, piuttosto che andare a cercare qualcosa di isolato che non diventa più un problema che una soluzione per i nostri partecipanti. Bene, grazie Giulio, ti ringrazio per la pronta risposta, molto precisa. Io voglio cominciare ad entrare più nello specifico di quella che è la tecnologia che noi utilizziamo per gli eventi. Diciamo che di recente sul tuo blog hai rilasciato, hai pubblicato una ormai credo famosa guida per gli eventi che è la Event Apple Bible, ovvero la Bibbia delle applicazioni per eventi dove troviamo veramente di tutto, una guida veramente ottima comparata con le applicazioni comparate fra di loro. La cosa che mi preme chiederti è, secondo il tuo punto di vista, qual è il valore aggiunto che riescono a offrire queste applicazioni mobile per una qualsiasi tipologia di evento? Innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, è importante avere questo tipo di feedback. La mia esperienza con l'App Bible che è stato davvero un lavoro enorme rispetto a quello a cui sono abituato col blog, è stato un lavoro in team con diverse persone, è una ricerca che è andata avanti per mesi, ha analizzato più di 300 apps, abbiamo fatto uno short listing di 50-56 app e le abbiamo tutte quante plottate in un grafico in cui potessimo immediatamente vedere le features che ci interessano e quale app offre cosa. Questo era fondamentale perché ormai da tempo si è vista questa crescita enorme in questo settore delle apps, ci sono centinaia di providers e quindi per il professionista degli eventi è sempre più difficile capire che tipologia aiuterebbe il proprio evento. Quindi molta confusione, sicuramente la Bible, il report è il primo passo per dare un po' più di chiarezza, sicuramente c'è da fare ancora molto perché è qualcosa di molto nuovo, non sappiamo ancora, non abbiamo ricerche o statistiche che supportino l'utilizzo di app come positivo per un evento, sicuramente possiamo intuire che le app possono creare qualche tipo di vantaggio, però siamo ancora molto in un momento in cui l'esperienza del singolo detta un po' legge, quindi abbiamo molti colleghi che ci dicono, ah sì io l'ho provata e va bene per me, questo non significa che vada bene per tutti, quindi è ancora un ambiente in cui muoversi con i piedi di piombo dal mio punto di vista, perché? Perché bisogna comunque investire tempo, bisogna comunque investire budget, o tempo o budget perché ci sono anche applicazioni gratuite e sicuramente ancora una volta la nota metodologica è di fare molta ricerca, di chiedere molto in giro, di chiedere, di creare le nostre belle request for proposals nel momento in cui abbiamo identificato dei buoni, insomma delle buone alternative. Ora, quali sono i benefici? Ho proprio fatto un articolo all'inizio di questa settimana che insomma dà un background statistico a delle strategie che possiamo adottare per promuovere le nostre app, perché alla fine il nostro obiettivo è fare in modo che la nostra app venga scaricata o che l'utente insomma acceda nel caso in cui questa sia in HTML5, quindi fruibile tramite browser senza scaricare alcunché e che poi venga usata, altrimenti è insomma inutile tutto questo esercizio di stile, diventa proprio un esercizio di stile. Sicuramente ci sono degli aspetti in cui è immediato il beneficio, l'aspetto dell'ambiente è il primo che mi viene in mente, cioè tagliare tutte quelle pile, quegli elenchi telefonici di brochure che abbiamo avuto in passato, insomma abbastanza inutili e che vengono buttate subito dopo l'evento, quindi un impatto immediato sia a livello di sostenibilità che a livello di cost cutting, perché insomma costa produrre questo tipo di comunicazione, sicuramente lì. Poi c'è una componente di networking che è molto importante, perché comunque noi usiamo il nostro telefono per usare i social network e quindi usare un'app per fare social networking all'interno di un evento ha molto senso, è molto supportato da una statistica e quindi sicuramente questi due elementi, poi c'è una delle ragioni per cui usiamo gli smartphone sicuramente per avere informazioni rilevanti immediatamente, quindi sapere la prossima sessione a cui mi sono registrato che sta cominciando in quel momento, sapere che si sta per svolgere una sessione a cui posso essere interessato, avere un profilo dello speaker che sta parlando, dare un voto allo speaker che sta parlando, sono tutte funzionalità che immediatamente aggiungono valore, quindi non c'è tanto da pensarci, sicuramente è un qualcosa che può aggiungere valore. Ora, se questo al momento attuale, tutto questo valore creato giustifica il nostro budget e il nostro tempo, è un'altra questione che va vista per bene, con attenzione, facendo molta attenzione alle risorse, perché sicuramente non siamo in un momento facile, di certo chiunque dica andate a usare un'app per il vostro evento in una maniera così sbarazzina, sta facendo un danno al professionista dell'evento. Bene, ti ringrazio Julius per la risposta, passerei più al lato business del mondo degli eventi, vorrei magari mi aiutasse a capire meglio quali sono secondo te le forme di monetizzazione più efficace, alla luce anche di quello che ci hai appena raccontato sulle app, quali sono una panoramica di quelle che possono essere le forme di monetizzazione migliore per un evento? C'è un grosso dibattito in questo momento, soprattutto nell'industria dei meetings, quindi delle conferenze, association meetings, eccetera, che ha a che fare con il concetto di hosted buyers e quindi con un partecipante all'evento che addirittura legge un articolo proprio di Stefania Contivecchi, che è un ottimo esponente dell'industria dei meetings qui in Italia, che parlava proprio di chi si qualifica come hosted buyers, per intenderci, per chi non sa che cos'è uno hosted buyers, una persona che garantisce l'organizzazione di un'exhibition, di un trade show o di un evento in particolare, delle referenze per cui è una persona appetibile per chi espone all'evento, per gli sponsors o per gli exhibitors, quindi viene spesato di tutto e tutto quanto. È un meccanismo un po' preoccupante dal mio punto di vista, è un meccanismo che mi spaventa perché qui effettivamente stiamo pagando le persone per venire al nostro evento, c'è qualcosa che non va in questo, c'è qualcosa del marcio in questo modo di pensare perché se il nostro evento non riesce ad attirare naturalmente le persone, il nostro target market che interessa ai nostri sponsor, secondo me ci dobbiamo chiedere seriamente qual è il significato del nostro evento. Sicuramente incentivare determinati profili a venire al nostro evento, soprattutto in un momento in cui c'è molta competizione, c'è molta offerta è importante, ma questo deve essere fatto a livello di contenuto, deve essere fatto a livello di concept dell'evento. Chiaro che se io organizzo una trade show che è un qualcosa che appartiene ai primi anni del Novecento, non c'è tanto di innovativo e quindi devo un po' spingermi a invitare, a pagare addirittura le persone per venire a presenziare. La domanda è sempre a monte, quanto è innovativo il mio evento, quanto riesco effettivamente a creare un qualcosa che interessa le persone, per cui le persone possano pagare, perché secondo me l'attendì che il partecipante che paga sta in un certo senso giustificando il lavoro che è stato fatto alle spalle, sta dando prova che è stato fatto un lavoro fatto bene. Io non ho mai visto un'azienda tipo, facciamo l'esempio di Apple, ma mi sembra strano che Apple pagasse qualcuno per prendere un iPad, di solito al contrario, noi paghiamo per avere un servizio o un prodotto fatto bene. Mi spaventa questo tipo di discorso, sicuramente gli attendì devono pagare, perché è un modo di validare il concetto. Dare tutto il peso sugli attendee e creare questi ticket, questi biglietti che costano un'enormità è stato sempre un altro brobrio dell'industria, penso. Sicuramente trovare quell'equilibrio tra un apporto di sponsor, un biglietto che comunque deve essere pagato e un budget fatto bene, un concept fatto bene, è sicuramente sempre la formula vincente, è la ragione per cui l'industria degli eventi continua a essere almeno forte negli Stati Uniti e comunque essere sostanziale per quanto riguarda l'impatto economico. Quindi è questo equilibrio che deve essere preservato, stravolgere questo equilibrio è sempre un segnale altelenante rispetto a quello che stiamo facendo e quindi questo è quello che penso. Bene, ti ringrazio per la sincerità e la trasparenza con cui affermi questi concetti, perché è chiaro diciamo che in virtù dell'innovazione tecnologica e delle tante novità, per esempio penso al meeting design, quindi hai ragione quando sono pienamente d'accordo quando dici che in realtà il discorso va fatto a monte sulla tipologia di evento che vogliamo disegnare per i nostri partecipanti. Non so se tu magari puoi dirci qualcosa anche su quelli che possono essere gli aspetti a pagamento tra virgolette dell'evento, come sono i contenuti sponsorizzati, ovvero l'evento si finanzia attraverso una serie di contenuti premium se vogliamo, non so se tu hai qualche esperienza a riguardo. Sicuramente giocare col contenuto è fondamentale, perché sicuramente se parliamo di conferenze, di meetings, diciamo che l'educazione è una delle ragioni principali per cui andiamo a un evento, a una conferenza, cerchiamo di avere un minimo, di apprendere qualcosa di nuovo, quindi come si gioca con i contenuti è sicuramente importante. Ancora una volta la nota a monte è fare attenzione che si crei valore sempre e comunque, non che si promuova un servizio e basta. Insomma è quando si scade nell'ovio e nel banale che poi si mette in questione tutto quanto, che si comincia quel circolo vizioso di persone non soddisfatte, persone che hanno pagato tanto per trovarsi davanti a pitch di aziende, insomma non può interessare meno. Quindi anche questo molto spesso non è un problema degli sponsor, è anche un problema di come l'event professional gioca con gli sponsor, crea con gli sponsor soluzioni importanti, soluzioni di valore e quindi sicuramente creare tier di contenuto premium o creare programmi di educazione con un'attenzione o con una fee più elevata può essere sicuramente qualcosa di strategicamente adeguato, di tatticamente adeguato nel momento in cui questi programmi ad hoc sono realmente programmi ad hoc, non sono maniere di trovare altro revenue perché siamo disperati e quando si crea questo tipo di dicotomia che si creano problemi reali, partecipa al nostro evento, la gente non è stupida, la gente capisce quello che noi stiamo offrendo, quindi nel momento in cui noi rispettiamo l'intelligenza del nostro interlocutore e creiamo prodotti di contenuto validi, sicuramente un prezzo più elevato è più che giustificato e rappresenta una strategia di revenio ideale. Bene, io voglio farti un'ultima domanda prima di salutarci, volevo chiederti secondo te qual è l'errore che un organizzatore di eventi non dovrebbe mai fare, non so anche dalla tua esperienza? Certo, ma la mia esperienza recente ha a che fare soprattutto con la consulenza, con aziende insomma grandi, non necessariamente nel settore degli eventi, ma che operano comunque nel digitale quindi ha molto a che fare con la tecnologia e poi insomma un po' anche quello di cui scrivo giorno per giorno sul blog. Ora, quello che dirò si ricollega a quello di cui stavamo parlando per quanto riguarda le applicazioni. L'errore più frequente che vedo e del quale insomma mi fa un po' più storcere il naso è quello di seguire una moda, di seguire quello che fanno i nostri competitor, di seguire in generale per quanto riguarda la tecnologia senza una scelta critica rispetto al nostro evento, al nostro contesto, ai nostri partecipanti. In un certo senso ho visto anche persone di un certo spessore, di un certo calibro, persone che sono state nell'industria per anni, completamente negare la propria personalità per seguire l'hype del momento. Questo è altamente dannoso perché di solito il nostro competitor non siamo noi, il nostro evento non è l'evento di qualcun altro, quindi noi dobbiamo fare le scelte esatte per il nostro contesto. Quindi per quanto riguarda la tecnologia ma anche penso in generale un po' per fare business in generale negli eventi, essere originali, creare quel valore di cui parlavamo tramite anche la tecnologia è fondamentale, ma deve essere una nostra creazione e non quella di qualcun altro, perché il più delle volte questo tipo di comportamento crea una sfiducia poi anche nella tecnologia stessa, perché il più delle volte quando noi seguiamo l'hype non lo comprendiamo effettivamente, non lo applichiamo con testo, il più delle volte sarà un fallimento e quindi automaticamente avremo quella sconfidenza nella tecnologia e non innoveremo più, che è un peccato perché il nostro compito deve essere quello sempre di innovare. La tecnologia è uno strumento per innovare, per creare valore innovativo, quindi è un peccato se una strategia poco pensata blocca il nostro processo di innovazione, invece chi sviluppa una reputazione di innovatore può permettersi di non competere su discorsi come il prezzo o cose del genere, quindi può permettersi di avere un vantaggio competitivo enorme perché ha sviluppato una reputazione di innovatore, quindi cerchiamo di sviluppare quella reputazione, cerchiamo di fare le cose in maniera diversa, questo è il mio suggerimento, non necessariamente diversa rispetto agli altri, ma diversa nel senso di nuova, perché le persone che vengono ai nostri eventi vogliono sempre qualcosa di nuovo, cercano qualcosa di nuovo e il nostro compito è di stimolarlo in questo senso. Bene, ti ringrazio anche per questa risposta, siamo alle battute conclusive, io voglio invitare tutti i nostri lettori di Made in Congress a seguire e a leggere, per chi non lo conoscesse, il tuo blog eventmanagerblog.com, troverete davvero tantissime informazioni interessanti che vanno dalla tecnologia, dall'utilizzo dei media fino a indicazioni di carattere strategico, di pianificazione di un evento. Io voglio ringraziarti davvero tanto, Julius. Grazie a te Gianluca, grazie a Made in Congress e grazie per le tue parole sul blog. Bene, io vi ringrazio tutti voi che siete stati in collegamento su questo live direttamente su Made in Congress.it e da Giulio Solaris e da Gianluca Badessa, un saluto e alla prossima, ciao! Ciao a tutti!